Sarebbero giunte sul tavolo di Roberto Nicastro otto manifestazioni di interesse per le quattro good bank. Stando a quanto riportato da Corriere.it, i soggetti che hanno manifestato interesse sarebbero Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Cariparma Credit Agricole, BNL, BNP Paribas, Popolare di Bari, Ubi, Apollo, Lone Star, Barenz. Su Banca Etruria prosegue il quotidiano, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha valutato l'intero pacchetto delle quattro banche, ma guarderebbe con maggior favore a Banca Marche Etruria, così da espandere la presenza territoriale. L'interesse di Banca Popolare dell'Emilia Romagna per l'Istituto di Credito Aretino era nell'area da alcuni giorni e quelli che parevano solo rumors dal mondo finanziario iniziano ad acquisire un peso. I lavori stanno andando avanti alacremente. La fase più delicata adesso sarà quella delle due diligence nella quale chi ha inoltrato l'offerta potrà approfondire la situazione delle quattro banche con verifiche mirate. Se tali accertamenti saranno appaganti, i soggetti interessati potranno avanzare proposte vincolanti. I tempi sono stretti. La vendita dovrà infatti essere effettuata entro il 30 settembre, altrimenti, come ha stabilito la Commissione Europea, scatteranno le sanzioni per aiuti di Stato.